Nella storia dell'arte le emozioni non sono sempre state raccontate allo stesso modo. Ci sono stati momenti in cui sono state bandite dai volti dei personaggi e momenti in cui sono state assolute protagoniste. Quando nel 600 arriva Bernini, tutto cambia. Lui stesso deve imparare a raccontare le emozioni, come dimostrano tre sculture conservate alla Galleria Borghese. Enea e Inchise che fuggono da Troia non raccontano l'emozione che stanno vivendo in quel terribile momento. È una scultura che Bernini concepisce per essere vista soltanto di fronte. Quando lo scultore affronta il ratto di Proserpina, le emozioni irrompono nei volti dei personaggi. Il Dio è soddisfatto per aver finalmente rapito la ragazza che piange, disperata, in un gioco geometrico che fa sentire la tensione tra i loro due corpi. Ma è solo quando affronta Apollo e Daphne che Bernini riesce a raccontare delle emozioni ambigue. Quella di Apollo che non sa se ha finalmente raggiunto la sua preda o se rimarrà con un pugno di mosca in mano. Quella di Daphne che invece è disperata, ma forse anche speranzosa, perché qualcosa accadrà. E ciò che accade riusciamo a leggerlo girando intorno alla scultura, perché quando arriviamo alle sue spalle, di fronte ad Apollo, Daphne è sparita e sono rimaste soltanto delle foglie di alloro. Per gli artisti sarà difficile raccogliere le realtà di Bernini, come dimostra il viaggio delle emozioni fino all'arte del XXI secolo. Grazie a tutti!